Si è concluso con una stretta di mano tra Stefano Polegioni, commissario dell'Udici Fano, e l'ingegner Nicola Tucci, dirigente responsabile dell'unità territoriale di Ancona di RFI, l'incontro avvenuto a Cucurano per la pulizia della tratta ferroviaria Fano Urbino, chiusa ormai dal 1987. Dopo gli appelli lanciati dai residenti, le richieste avanzate da Polegioni e la riunione in prefettura, oggi l'ingegnere, accompagnato da due colleghi, ha incontrato i cittadini per fare il punto della situazione. La zona, spiegato e attenzionata da tempo, ma gestendo soldi pubblici abbiamo il dovere di seguire un elenco di priorità. Facciamo il possibile, ha assicurato Tucci, per portare avanti la manutenzione di tutte le linee. Il programma però è dinamico perché cambia in base alle varie emergenze non prevedibili come l'alluvione. La ditta incaricata, ha aggiunto l'ingegnere, tornerà per terminare il lavoro. Posso promettere i risultati, ha detto, ma non le tempistiche dell'intervento. Polegioni, è rimasto soddisfatto di questo incontro? Beh, assolutamente sì, anche perché è qualche anno che stiamo combattendo per ripulire questa tratta ferroviaria dismessa e abbandonata. E quindi ringrazio l'ingegnere Tucci dell'ente ferrovie, responsabile dell'ente ferrovie, che addirittura mi ha chiesto un incontro. Ci siamo visti qui in via Regolo perché questa è stata una zona molto interessata anche dall'alluvione. E ci siamo confrontati insieme anche ai cittadini e quindi siamo giunti anche a degli accordi anche futuri dove l'ingegnere si è preso degli impegni davanti a tutti. E quindi posso soltanto dire di essere molto molto contento. Come ha detto lo stesso ingegnere, sono stati eseguiti più sopralluoghi da parte di RFI e sono emerse anche delle criticità collegate al Comune di Fano. Sì, perché? Perché intanto sul discorso del verde, perché sembrerebbe che non abbiano ricevuto i giusti o i dovuti benestari per quello che riguarda il taglio o la potatura o la sistemazione di alcune piante. Quindi alcune cose si sono fermate per via di questo. Quindi mi auguro che questo venga preso in considerazione dalla responsabile del verde pubblico e si relazioni con l'ente ferrovie perché qui, se no a pagarne le conseguenze, sono i cittadini che ci abitano. Altra problematica, una fognatura. Questa l'abbiamo scoperta questa mattina con i tecnici delle DRFI perché abbiamo visto che il fosso che si è riempito a causa dell'evento straordinario e che ha portato l'acqua al ridosso delle abitazioni è dovuto anche al fatto che in fondo all'altezza della stazione ferroviaria di Cucurano c'è una raccolta acqua e non sufficiente. Al termine dell'incontro, proficuo e costruttivo per entrambe le parti, l'ingegnere ci ha fatto sapere di aver incontrato i tecnici del comune di Fano per risolvere il problema dell'ostruzione della cunetta in corrispondenza del passaggio a livello. Dopo tutti gli approfondimenti del caso, la prossima settimana verrà concordata la soluzione migliore. Invece qual è la sua idea in merito al futuro di questa tratta? Io l'ho già detto, questa tratta che attraversa tutta la parte abitativa del comune di Fano è una tratta che è interessata da moltissimi attraversamenti e tagli di linea, per cui di cosa parliamo, di quale riattivazione dobbiamo parlare. Ci vuole un progetto alternativo, questa linea venga utilizzata presto per una pista ciclabile, per un percorso ciclo pedonale. Addirittura l'ingegnere Tucci è stato d'accordo su questa proposta e credo che la porteremo avanti, come abbiamo detto, insieme in un tavolo tecnico di RFI.